Tamponamento a catena La strada è rimasta bloccata con l'alternanza del senso unico, il tempo necessario per permettere le operazioni di soccorso, i rilievi e la rimozione dei mezzi maggiormente incinitati. L'aperta come burro, l'aperta come una scatoletta di tonno. E' il primo. E' il primo. Ma questo cazzo di cose dei veloz, arrivano, si piantano. E' il primo. E' il primo. E' il primo.